No, essere giudicata che faccio magia nera perché metto i sali nel bagno, la gente se le paga 200 euro per i sali del bagno, io mi prendo quelle della cucina. Perché a parte chi fa bene, e io credo veramente a chi scarica l'energia negativa. E se questa cosa è medievale, e che è una bestemmia, e quello chi è, che ho due scuse che le hai visto, e poi sono le mie credenze, e adesso ho capito le mie credenze. Ma noi rispettiamo la fede di chiunque, Fernanda, e ci mancherebbe altro. Ecco, per chi fosse rispettato, perché il candomblé in Brasile è molto diffuso, e io ci credo in questa cosa. Ho tatuato un drago nel piedi perché è il mio santo protettore San Giorgio, e allora fa parte del candomblé. E noi sentiamo scarica, gli aggressivi, i nervosi, e ci mettiamo i sali addosso. Io non ho messo il salio addosso a nessuno, ho messo addosso a me. Perché senti le negatività? Ma c'è tutto nella casa, quando iniziano le liti, non è una cosa positiva, non è una cosa leggera. Si sente carica, si sente nei muscoli. Capito? Allora vado a fare una vasca rilassante, vuole un po' di sale. Grazie. Grazie.